Ostacoli burocratici in termini di autorizzazioni e competenze in tema urbanistico continuano periodicamente a paralizzare alcune attività del porto di Pesaro. Caso emblematico sollevato dal sindaco Biancani è quello del club nautico, la cui attività di ristorazione è chiusa da mesi in seguito al passaggio di competenze nel rilascio delle autorizzazioni dalla Capitaneria di Porto all'autorità portuale. Autorità che nel caso del club ha negato alcuni lavori di ampliamento della struttura ritenendoli abusivi nonostante il precedente ok rilasciato in termini di conformità urbanistica. Devo dire che c'è la massima voglia di collaborare da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dell'autorità portuale, però ritengo veramente incomprensibile questa cosa che dopo aver fatto addirittura un incontro ormai più di un mese e mezzo fa dove dovevamo in qualche modo individuare una soluzione, a tutt'oggi la soluzione non c'è. Io penso che lasciare chiuso un club nautico che è ovviamente prettamente un'attività estiva per problemi burocratici sia incomprensibile. Incomprensibile perché il fatto che l'autorità portuale non riconosca le autorizzazioni già rilasciate oltre 15 anni fa da un ministero perché quella volta le autorizzazioni venivano rilasciate direttamente dalla Capitaneria che era autorità competente ed era la responsabile del procedimento. Quindi il ministero che è lo stesso ministero dell'autorità portuale rilascia delle autorizzazioni che 15 anni dopo vengono messe in discussione. Questa cosa è inconcepibile, ho chiesto all'autorità portuale, Capitaneria e agli uffici di comune di risolverla. Se non si risolve sono pronto sia a scrivere all'ammiraglio regionale per dire che non viene riconosciuto quello che è il lavoro e le autorizzazioni date dalla stessa Capitaneria che è il ministero dei trasporti o se non riescono a risolvere neanche a livello regionale sono pronto a scrivere al ministro e al ministero perché questa situazione non può perdurare così a lungo. Voglio anche ricordare che il problema non è del club nautico, il problema è di oltre per oltre 15 attività presenti oggi nel porto di Pesaro e chiunque di queste dovesse fare una richiesta gli verrebbe detto che il proprio edificio è abusivo e questa cosa è inconcepibile.